Torno a noi appuntamenti di cultura nazionale, quando è il prossimo? Sabato 28, quindi questo sabato in Sala Rosa, Sala Giorza del Saracino qui al Comune di Arezzo viene Chiara Giannini con il suo discusso Io sono Matteo Salvini. L'abbiamo invitata per due motivi, prima per il libro che ci è piaciuto ma soprattutto per quello che è stato fatto al Salone del Libro di Torino in cui il suo libro è stato contestato prima e poi escluso poi e questa è una cosa che a noi non ci è piaciuta molto comunque ha fatto tanta pubblicità questo libro perché crediamo che la cultura comunque debba essere accettata tutta sia di destra, di sinistra, quella che ci piace, quella che non ci piace noi siamo un esempio vivente di questo, quindi noi siamo contenti di ospitarla siamo lì in Sala Rosa alle ore 17, sabato 28. Non finiranno qui gli appuntamenti di cultura nazionale, insomma si apre anche un'altra grande stagione? Sì, posso già anticipare due eventi, faremo una doppietta il 24 ottobre verrà il senatore Emanuele Vescovi della Lega a presentare un suo libro che non c'entra niente con la politica, ma si chiama Osa è un viaggio introspettivo in quello che è una convinzione che ognuno di noi deve avere e il 25 lo faremo un altro grande evento verrà il vice allenatore della Nazionale Italiana del Gioco Calcio, Chico Evani a presentare il suo libro e lo faremo in collaborazione con gli arbitri quindi alla sala degli arbitri allo stadio di Arezzo tanti generi, spaziamo da destra a sinistra, sport, cultura ma ci saranno anche altre sorprese perché probabilmente andremo anche nel mondo dello spettacolo